Francesco Palmisano, estremo de medici e meno de match di questo incontro, una partita difficile contro la polista dominata da voi forse fin dal primo minuto? Beh, insomma, nel senso che potevamo fare qualche errore in meno come ci eravamo prefissati, però abbiamo giocato un buon primo tempo, nel secondo ci siamo un po' accontentati e infatti abbiamo pagato i 10 punti sul tabellino. Sicuramente era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi, ci siamo riusciti, abbiamo lavorato bene in settimana e ecco il risultato. Se dobbiamo fare un piccolo appunto, ancora oggi forse troppi calci di punizione, un po' di disciplina, cosa che presunti predica fin dall'inizio dell'anno? Assolutamente sì, ogni lunedì ci ritroviamo infatti a sentire Pasquale che ci rimprovera su questa cosa. Dobbiamo lavorarci e stare attenti soprattutto sul punto di incontro dove commettiamo troppi errori. In mischia ci può stare qualche calcio di punizione, ma nei punti di incontro dobbiamo essere più disciplinati. Da parte tua una prestazione ottima, hai messo lo zampino praticamente in quasi tutte le mete e poi hai realizzato una splendida seconda meta, complimenti. Grazie, grazie.